Incendio in un parcheggio nella zona occidentale del capologo ionico. Il rogo è avvenuto nella tarda serata di mercoledì. L'allarme ai vigili del fuoco è scattato poco prima delle 22. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un'ampia area dove sono custoditi diversi mezzi sulla statale ionica 106. Stando ai primi rilievi effettuati non si esclude che la matrice dell'incendio possa essere di natura dolosa. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero alcune immagini ricavate dal sistema di videosorveglianza attraverso le quali potrebbe essere possibile ricostruire gli eventi. Si stanno attentamente valutando i video che potrebbero far ipotizzare l'origine dolosa. L'area interessata dall'incendio risulta essere recintata nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno ugualmente gravemente danneggiato alcuni mezzi parcheggiati, ovvero due autocarri, tre box metallici di circa 40 metri quadrati, due semirimorchi, motociclette e attrezzature.